L'ossigeno è nemico dell'ombreuer, o meglio della birra. L'ombreuer deve comunque respirare. Ciao, questo è l'ombreuer in diary e io sono Lucio, immerso in un'atmosfera composta da azoto, ossigeno, argon e anidrite carbonica. Oggi si parla di gas. La nostra atmosfera è composta al 20% di ossigeno, quindi è inevitabile che prima o poi nel processo di produzione la birra ci entri a contatto ossidandosi. A meno che non ci mettiamo a trafficare con bombole di CO2, trasferimenti in contropressione, isobarico, ma per ora tralasciamo quell'aspetto, non sono ancora emotivamente pronto. Tutta questa premessa perché ultimamente ho iniziato a fare col crashing e anche se non sembra, la birra viene ossigenata. Infatti con l'abbassamento della temperatura il mosto cala di volume creando un vuoto di pressione all'interno del fermentatore e viene risucchiato ossigeno all'interno. Noi potremmo non accorgercene soprattutto se usiamo i classici gorgogliatori a goccia, questi qui, perché il gorgogliatore in quel caso gorgoglia al contrario e quindi l'aria entra ma noi non ce ne accorgiamo. Quindi per fare col crashing o eventualmente uno spurgo di lievito senza che la birra se ossigeni serve un polmone supplementare di CO2. La soluzione di Project Zero presentata sul suo canale di utilizzare degli attacchi a t e delle bottiglie è sicuramente la più valida, ma nel mio caso ho pensato a una soluzione molto più grossolana ma anche più low cost. Ma prima di iniziare, quanta CO2 produce la nostra birra in fermentazione? Alert, ora inizierà uno spiegone pseudo scientifico. Se vuoi saltarlo ho lasciato i segnalibri nella barra di scorrimento del video, puoi andare direttamente alla conclusione. Iniziamo! Premetto che il calcolo che inizierò a fare non è farina del mio sacco, a parte la curiosità che mi ha spinto a cercarlo, quindi lascio il link da cui ho preso le informazioni in descrizione e ringrazio Dennis di livefermented.wordpress.com se mai un giorno dovesse arrivare a vedere questo video. Comunque per un calcolo di quanta CO2 produce la nostra birra, le variabili in gioco sono molte, dalla densità iniziale del mosto all'attenuazione che riesce ad ottenere il lievito. Conviene iniziare a ragionare in gradi plato, infatti un grado plato corrisponde all'1% del peso del mosto in zucchero, vuol dire che per un chilo di mosto a un grado plato 10 grammi sono composti da zucchero. L'1% è quello? Sì. 100 grammi, un grammo. Un chilo, 10 grammi. Quindi prima di tutto consideriamo un caso specifico per capire meglio il calcolo. Andrà bene comunque anche per farsi un'idea. Sto fermentando una Golden Ale di 14,5 litri a densità iniziale, quindi OG, di 1,050, corrispondenti a 12,5 gradi plato. Per sapere quanto pesa la birra in fermentazione, oltre a misurarla con una bilancia, si può considerare il volume per la densità. Infatti un chilo di acqua distillata, che ha un volume di un litro, avrà una densità di 1,0. Nel nostro caso la densità è di 1,05 e quindi vorrà dire che il peso di un litro della nostra soluzione sarà 1,05 chili. Quindi visto che abbiamo 14,5 litri di mosto, basterà per sapere il peso fare 14,5 per la densità, quindi per 1,05. Otterremo quindi circa 20 chili. Per sapere poi quanto zucchero è disciolto nella soluzione, basterà moltiplicare il peso per i gradi plato in percentuale. Quindi sapendo che sono 12,5 gradi plato, basterà fare 20, che sono più o meno i chili, per 0,125. Quindi la birra ha disciolto in sé circa 1,9 kg di zucchero. Ora di questo zucchero dovremo capire quanto ne ha consumato il lievito. Consideriamo un'attenuazione apparente del 75%. Ora i normali strumenti, come il densimetro, sono in grado di misurare l'attenuazione apparente, ma a noi serve quella reale. Quindi dovremo utilizzare un fattore di conversione per trasformare quella apparente in quella reale. Per sapere quanto zucchero abbiamo consumato, basterà considerare il peso dello zucchero presente all'interno del mosto e moltiplicarlo per l'attenuazione reale, quindi per l'attenuazione apparente, con il fattore di conversione. E sappiamo quindi che abbiamo 1,160 kg di zucchero consumati dal lievito. Dobbiamo ora fare un'approssimazione, ahimè. Lo zucchero consumato dal lievito dobbiamo considerarlo tutto come glucosio, per semplicità. Anche se sappiamo che dentro ci sono anche fruttosio, maltosio e altri tipi di zucchero. Questo perché ci è più facile considerare la reazione chimica che una molecola di glucosio viene trasformata in due molecole di etanolo più due molecole di CO2. Quindi ora basterà ragionare i moli, ovvero la grandezza utilizzata per calcolare le reazioni chimiche. Per sapere quante moli di glucosio sono state consumate dal nostro lievito all'interno dello zucchero basta considerare che una mole di glucosio pesa circa 180 grammi e quindi basterà fare la quantità di zucchero consumata dal lievito diviso 180 grammi per sapere che abbiamo 6,44 moli di glucosio che vengono quindi trasformate in 12,88 moli di CO2. Siamo quasi arrivati perché ora basta utilizzare la legge dei gas perfetti P per V uguale nRT dove P è la pressione, V è il volume e n è il numero di moli, R è una costante e T la temperatura per sapere che volume occuperà la CO2 ovvero i 12,88 moli di CO2 che sono state prodotte all'interno del nostro fermentatore. Quindi considerando che siamo a temperatura atmosferica quindi un'atmosfera e che la nostra stanza avrà circa 20 gradi di temperatura possiamo facilmente calcolare che la nostra fermentazione o meglio il nostro lievito ha prodotto ben 310 litri di CO2 e moltiplicando poi questi litri per il peso molare della CO2 di circa 44 grammi per mole sappiamo anche che sono stati prodotti circa 500 grammi di CO2 Direi che l'inquinamento atmosferico è minore di quanto mi aspettassi considerando che questa quantità di CO2 corrisponde a quella emessa da un viaggio in macchina di 3,5 chilometri in più se siete interessati a scoprire quanta CO2 produce la vostra birra in fermentazione sto preparando un foglio Excel ed arriviamo alla soluzione che ho pensato per raccogliere questa gigantesca quantità di CO2 è più semplice di quanto sembri ora speriamo che funzioni anche infatti ho collegato un fermentatore a secchio classico al blow off del mio fermentatore in acciaio link in descrizione con un tubo quindi la CO2 esce dal blow off del fermentatore in acciaio entra nel rubinetto del fermentatore in plastica a secchio che sarà comunque chiuso ermeticamente in quanto alla fine ci sarà un classico gorgogliatore a goccia dopo alcune prove di tenuta ho messo in funzione il fermentatore e dovrei aver raccolto circa 13 litri di CO2 a pressione e temperature atmosferiche questa CO2 poi verrà reinserita all'interno del fermentatore una volta che questo inizierà a svuotarsi quindi conto di fare imbottigliamento con il polmone attaccato in modo che almeno una parte della CO2 rientri nel fermentatore e non ossidi la birra che sta all'interno per principio la CO2 che entra nel polmone il fermentatore in plastica entrando dal rubinetto che sta in basso dovrebbe spingere l'ossigeno in alto facendolo uscire dal gorgogliatore che sta sul tappo infatti una mole di CO2 pesa 44 grammi mentre una mole di aria ne pesa 28 e quindi è più leggera e tende ad andare in alto ovviamente anche questa è un'approssimazione in quanto i gas tendono a mischiarsi quindi non c'è l'assoluta certezza che ci sia della CO2 in purezza diciamo ma comunque si abbassa la quantità di ossigeno presente all'interno del polmone e della birra questa soluzione può essere considerata come il classico palloncino che si lascia riempire di CO2 attaccato al blow off del fermentatore in modo da raccoglierne un po' che poi viene reinserita durante il cold crash semplicemente è un palloncino più grande ma va considerato che durante il processo l'ossigeno entra comunque a contatto con la birra soprattutto perché non faccio imbottigliamento in isobarico e quindi la bottiglia è piena di ossigeno quando la birra viene inserita al suo interno però almeno diciamo che questa soluzione limita un po' i danni e questo è tutto se il video ti è piaciuto lascia un like per lo spiegone iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto e dimmi nei commenti quanto CO2 produce la tua birra